In una società multietnica che accoglie culture, religioni e stili di vita fra i più diversi, l'attenzione alla salute femminile deve trovare nuove modalità di comunicazione per far sì che parole come prevenzione attraverso il pap test, come contraccezione, interruzioni di gravidanza, protezione dalle malattie sessuali, che nella nostra società sono ormai patrimonio di tutti, anche delle ragazze più giovani, diventino un'opportunità anche per tutte le donne che arrivano in Italia da paesi lontani. A volte la barriera linguistica, a volte le difficoltà economiche, a volte problematiche legate ai permessi di soggiorno fanno sì che queste ragazze e queste donne trascurino i controlli e le visite. E per sottolineare come sia necessario un approccio nuovo al benessere femminile, le società italiane di ginecologia hanno organizzato una conferenza stampa in cui si è cercato di individuare il miglior modello di assistenza per raggiungere tutte le donne, giovani e anziane, che arrivano in Italia e per garantire a tutte loro l'accesso alle cure. Per il servizio alla modalità di comunicazione cambia sicuramente in una società multietnica e cambia anche forse il rapportarsi con una cultura diversa in cui parole come prevenzione, come contraccezione, come interruzioni di gravidanza hanno un valore diverso rispetto a quello che hanno per noi ormai consolidato? Assolutamente sì, sono delle problematiche emergenti. Noi negli ultimi 10-15 anni in medicina abbiamo posto la donna e il paziente al centro del nostro sistema e tutto ruota intorno al paziente. La problematica emergente degli ultimi anni con il processo dell'immigrazione sempre più incalzante è che questa donna non è solo una donna e rappresenta un'unica lingua, un'unica cultura. Noi abbiamo posto al centro del nostro sistema una multitudine di persone e di culture per cui il nostro intervento, sia medico, sia umano, sia di comunicazione, deve essere modulato tenendo conto della diversa cultura e della diversa storia ed origine della donna. Quindi una maggiore complessità che si va già inserire alle complessità preesistenti. Vediamo anche tre grandi capitoli. La prevenzione sicuramente anche di malattie oncologiche che forse per noi è dato per scontato un PAP test ma magari per le ragazze che arrivano non è così. Poi vedremo anche magari la contraccezione e anche altre problematiche come quelle delle malattie sessualmente trasmesse che stanno anche ricominciando. Cominciamo proprio con quello che può essere un discorso di prevenzione. Il concetto di prevenzione che ormai si è radicato per fortuna nella cultura delle nostre donne è del tutto assente nella cultura delle nostre immigrate sia per una questione di una mancanza di politica sanitaria nelle regioni e nelle nazioni da cui provengono queste donne sia per grossi limiti culturali in molte di queste donne. Infatti la malattia e la possibilità di malattia diventa un momento di esclusione morale e fisica sia dal gruppo che dalla società e quindi provengono spesso da società che non contemplano il concetto di malattia e il prendersi cura della malattia di una donna, figurarsi del concetto di prevenzione. Quindi sono donne che vengono non spesso malate ma che non sanno delle possibilità che può dare la prevenzione in campo oncologico e non e ciò che noi possiamo offrirgli. L'altro campo importantissimo è la contraccezione. La contraccezione sempre per questioni culturali e di organizzazione dalle nazioni dove vengono è un fatto del tutto della singola persona. La donna viene ancora vissuta purtroppo in queste regioni come uno strumento per la gravidanza e la continuazione della specie e molto spesso non ha quella dignità che finalmente ha raggiunto nella nostra società. Questo è un grande problema. La donna non ha coscienza della contraccezione. La fertilità viene subita dalla donna nell'ambito familiare e nell'ambito della società, della tribù da cui appartiene. Per cui noi vediamo delle tragedie in mani sia a livello ostetrico sia a livello di false tecniche sbagliate di contraccezione o di aborto in maniera empirica che esse praticano all'oscuro del sistema sanitario ma all'oscuro spesso dell'ambiente familiare. Ed è una grande piaga sociale che spesso non emerge ma emerge nella nostra attività quotidiana, nei pronti soccorsi ma non nella coscienza della popolazione civile. E anche la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse che sono anche in ripresa alcune malattie che magari in Italia già non vedevamo da molto. Assolutamente, chiaramente queste donne che vengono da questi contesti sanitari e sociali e socioculturali disagiate portano con sé delle malattie che per fortuna nelle nostre nazioni in Europa erano quasi completamente estinte. Questo è un duplice problema, un problema per noi medici che non abbiamo perso la capacità e la facilità di diagnosticare queste malattie e l'altro problema è che queste malattie cominciano tramite la piaga della prostituzione che è molto diffusa nelle extracomunitarie a diffondersi nella nostra popolazione, il cui sistema immunitario non era più abituato a incontrare determinate malattie. Quindi si sta determinando un cocktail esplosivo le cui conseguenze noi avvertiremo purtroppo nelle dimensioni macroscopiche nei prossimi anni e quindi è importante capire, prenderne conscienza in anticipo per giocare di anticipo a livello terapeutico e a livello di prevenzione. In questi ultimi tempi la sanità sta cambiando, sta cambiando soprattutto non tanto dal punto di vista prettamente tecnico quanto per il nostro impatto che ha su sociale. Quando dico nostro significa l'impatto del paziente, della paziente ma dico anche l'impatto della classe medica e dei ginecologi in particolare. Perché abbiamo voluto dare questo titolo al prossimo congresso del 2016? Perché in questi ultimi mesi con questa grande quantità di immigrati e di immigrate che abbiamo si sono riviste delle patologie ma si è rivisto anche un nuovo, probabilmente un modo diverso di approcciarsi a una medicina che eravamo troppo standardizzate sulla nostra popolazione. E questo ci ha dato molto spesso anche il piacere di tornare a fare medici con l'ascoltazione e con tante altre cose che probabilmente, non so se è colpa o ha ragione, ci eravamo anche dimenticati, superati da tanta tecnologia. Ecco, la tecnologia serve, è importante, la usiamo tutti i giorni perché è un supporto validissimo ma con queste pazienti, fra virgolette, non so come chiamarle, se pazienti, utenti, immigrati, comunque con queste donne che arrivano, siamo rimessi a fare medici veramente. Ecco, proprio per evitare che diventino pazienti è anche importante una prevenzione che possa però andare incontro anche a quella che è una cultura diversa dalla nostra, quindi trovare anche una modalità di comunicazione forse nuova. In questo abbiamo delle difficoltà, abbiamo delle difficoltà pratiche, quasi giornaliere, perché le, dal punto di vista strutturale, fra virgolette, arrivano, vengono identificate, vengono portate in un centro di prima accoglienza, dopodiché in un centro di seconda accoglienza e poi seconda accoglienza. Ecco, in questo viaggio probabilmente un po' le perdiamo perché i centri di accoglienza, il primo o il secondo livello di identificazione non sono nello stesso luogo, spesso vengono spostate, per cui quello che fai in un posto o che tenti di fare in un determinato posto non può essere o rifatto o non fatto o non avere un seguito successivamente. Ecco, quindi, ed è quello che stiamo cercando di fare e devo dire che c'è una grande sensibilità anche da parte del Ministero, da parte degli organi istituzionali, stiamo cercando di organizzare per la pratica e per l'ambito ginecologico un filo conduttore che rimanga, un cartellino, una tessera sanitaria, qualcosa che rimanga accanto alla paziente, proprio per cercare di informare e di far conoscere a pazienti che non sanno neanche che cos'è la prevenzione, perché poi non tutti gli immigrati sono uguali. Io che vengo dalla Sicilia, lo vivo di primo impatto, abbiamo degli immigrati che sono dei veri disperati, abbiamo degli immigrati che vengono da nazioni e che sfuggono dalle guerre, ma che invece sono gente evoluta che conosce benissimo cos'è la prevenzione e quindi magari seguono il loro percorso. Ad altri che questo percorso non lo conoscono. Anche credo in conclusione l'importanza di far quello che può essere magari prevenzione, ne avevamo detto a 360 gradi, ma soprattutto sulle malattie sessualmente trasmesse che stanno, stavo giustamente dicendo prima, tornando e quindi far sì che ci sia poi uno screening anche delle donne che arrivano, ma anche poi per fare informazioni sulle generazioni successive. Sicuramente sì, si rivedono delle malattie sessualmente trasmesse che avevamo messo nel dimenticatoio, per cui è fondamentale e importante che questo avvenga, che avvenga nella maniera diretta. Devo dire che sono dei mediatori culturali che sono veramente preparati, veramente importanti in questa fase, per cui insieme a loro e alle assistenti sociali stiamo facendo questo. Noi abbiamo visto negli ultimi anni, proprio legato a questo processo di immigrazione così massiva, una serie di patologie che non vedevamo più ormai da decenni. Questo ha dovuto modificare in una grande fascia dei tecnici addetti, quindi dei colleghi addetti, una cultura su malattie, ripeto, che erano non più abitudinari a doversi curare. Ma dobbiamo quindi partire con un lavoro totalmente diverso da parte delle società scientifici, cioè aprirci di più al sociale, aprirci di più verso la medicina generale, aprirci di più verso una consulenza di tipo consultoriale che deve essere totalmente diversa e quindi abituarci ad affrontare queste diverse patologie di queste diverse popolazioni con etnie diverse, affrontarla in un modo più globale. Grazie 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 Grazie